Il programma è in continua evoluzione, ha un viaggio molto importante, innanzitutto con l'invito che ho avuto dal sindaco di Betlemme per partecipare domenica alla visita del Papa a Betlemme, ospite del Presidente Abu Mazen. Poi una visita istituzionale che mi impegnerà in Palestina, Nablus, Betlemme e altri con una serie di incontri vari che poi magari dopo se volete vi posso anche in parte specificare, poi andrò in Giordania dove ho altri incontri importanti e poi Israele su invito dello Stato di Israele a visitare la loro nazione. Un viaggio importante che serve soprattutto per preparare nel dettaglio il forum dei sindaci del Mediterraneo che si darà a ottobre a Napoli e per rafforzare in sostegno alle attività che fanno il governo il ruolo della diplomazia dal basso, cioè dei sindaci che vogliono sempre di più che il Mediterraneo possa diventare un mare di pace e non più di sangue, quindi importante il ruolo dei sindaci palestinesi, giordani, israeliani, poi proseguirà un viaggio in Turchia che farò nei prossimi giorni a Istanbul col sindaco. In Palestina in particolare i contatti con i miei amici sindaci a seguito anche della cittadinanza che loro mi hanno conferito, quindi Betlemme, Nablus, una serie di passaggi anche in strutture ospedaliere e umanitarie, quindi starò sabato e domenica con questa partecipazione alla messa solenne del Papa che motivo per me di grande privilegio e onore come sindaco della città di Napoli, che insomma è un'istituzione, è una città occidentale che si è invitata per un evento così importante. Poi andiamo in Giordania dove a parte i contatti con le ambasciate, col sindaco di Amman, con la principessa Rim che ha un ruolo fondamentale nel Jordan Media Institute e quindi il ruolo del giornalismo e dei media, anche lì con una serie di organizzazioni impegnate nel mondo dei diritti umani e dell'impegno sociale, quindi una visa importante in Israele con i sindaci israeliani, ovviamente con l'ambasciata, mi farò l'atore della consegna al capo dello Stato Peres di una missiva del rettore dell'Università Federico II che vuole conferire una laurea e honoris causa al Presidente Peres a ottobre a Napoli, unitamente alla laurea e honoris causa che l'Università di Salerno concederà da Bumazzen. Quindi noi ci vogliamo caratterizzare per dare il nostro umile ma determinato appoggio alle politiche di pace. Poi sono un viaggio che punta molto sul turismo, sullo sviluppo, quindi una serie di incontri con il mondo dell'impresa, dell'economia, del commercio, del turismo per implementare il turismo, la cultura e l'economia nella nostra città e portare il Made in Naples in Medio Oriente, quindi sempre di più Napoli, capitale del Mediterraneo. Basta vedere anche i risultati concreti che si stanno realizzando, perché questa visita è il frutto di un lavoro diplomatico e istituzione molto forte, i collegamenti diretti con l'aeroporto di Napoli. Pensiamo che dal 1 giugno Meridiana collegherà direttamente Napoli a Tel Aviv. E quindi anche il ruolo degli investimenti di imprenditori napoletani in Medio Oriente, penso a Israele, i rapporti importanti. Un punto focale sarà sulle smart city, sul sviluppo sostenibile, sulle energie alternative, sui prodotti della terra, quindi anche questo aspetto. Io ho sintetizzato, ma l'agenda è molto fitta, sono sette giorni, quasi sette giorni di viaggio, con una serie di incontri ufficiali che poi di volta in volta comunicheremo ovviamente a voi.